buongiorno a tutti anzi buonasera proseguiamo con le schedine bollettine anzi con le bollettine perché le schedine le ho già fatte 24 partite pensa 24 partite vedremo quante ne azzeccherò fatto le schedine ho fatto le schedine alternativa di solito non vado malaccio poi vabbè qua sono amichevoli quindi può succedere veramente di tutto sia perché magari mettono le seconde linee sia perché magari non c'è la foga che ci dovrebbe essere quando si gioca una partita che vale una qualificazione o simile metti anche che proprio perché non c'è quella le squadre giocano un attimino più rilassate eccetera quindi regalano magari un grandissimo spettacolo pur se no giocano proprio scazzate che fanno degli 0 a 0 schifosissimi che ti verrebbe voglia di dire ma che cosa la giocate a fare se amichevoli se dovete scendere in campo così scazzati quindi può sempre succedere di tutto e il contrario di quello che ci si aspetta o se no viene proprio fuori il risultato che ti aspetti con anche magari la mega goleada proprio perché la squadra è andata in campo più sciolta e si è divertita quindi andiamo a vedere le partite di giovedì che non sono due sono scontate due sono incasinate tra l'altro sono proprio quelle partite che vi dicevo in cui c'è la compagina europea contro una compagina estraeuropea in questo caso l'Iran e gli Stati Uniti quindi una del Asia l'Iran dov'è in Asia presumo non è in Asia Asia e l'altra è appunto America Stati Uniti America non ci piove Stati Uniti Canada quella è l'America poi dopo c'è il Centro America e poi c'è il Sud America comunque andiamo a vedere queste quattro partite come vi dicevo c'è Moldovia Russia scontata due poi il pallone rotondo può succedere di tutto però penso due fisso Bosnia Iran a mio rischio e pericolo uno ma comunque l'Iran è una squadra pericolosa tra virgolette galle Stati Uniti uno sempre a mio rischio e pericolo perché comunque sono due squadre molto molto equilibrate tra le due c'è una bella bella sfida e Inghilterra l'Irlanda partita abbastanza scontata uno anche se l'Irlanda sicuramente andrà a giocare in Inghilterra per vendere come si suol dire cara la pelle con 5 euro se ne vincono 45,71 ho fatto la bollettina alternativa con due fisse due doppie e signori miei viene pochino ma d'altronde non posso esimermi di ammettere la doppia nelle altre due partite perché sono troppo troppo equilibrate però c'erano quattro partite al giovedì amichevoli ho detto le mettiamo insieme e poi ognuno faccia quello che vuole quindi Moldova Russia 2 Bosnia Iran 1x galle Stati Uniti 1x Inghilterra Irlanda 1 con 5 euro vengono fuori 14,01 centesimi so che sono pochini non siamo non arriviamo neanche a tre volte la posta però ragazzi miei accontentatevi perché francamente Bosnia Iran galle Stati Uniti rischiare l'uno fisso dove su una bolletta in cui mi auguro di fare cassa fare una piccola cassa giusto per coprire eventualmente le altre io mi accontento di 14,01 euro poi se qualcuno vuole rischiare la fissa o magari mettere anche in questa bollettina qui con due doppie due fisse qualche over a sua discrezione tipo Moldova Russia può fare un 2 più over 2,5 così per alzare la quota e la porta o in terra Irlanda 1 più over 2,5 giusto per alzare la quota poi naturalmente con l'over c'è già la bollettina successiva che è questa Moldova Russia Moldova Moldavia quello che è x2 più over Bosnia Iran 1x più over Galli Stati Uniti 1x più over Inghilterra Irlanda 1x più over con 5 euro se ne possono vincere 28,52 qua magari se qualcuno sull'over non se la sente potrebbe aumentare Moldova Russia fare un 2 più over 2,5 Bosnia Iran lasciare la doppia Galli Stati Uniti se magari l'over teme che non salti fuori perché fanno 0 a 0 finisce 1 a 0 eccetera potrebbe lasciare anche lì l'1i solo la doppia e non mettere l'over e andare ad aggiungere un over 2,5 a Inghilterra Irlanda 1x più over oppure potrebbe lasciare gli over tutti e quattro mettere il 2 su Moldova Russia e l'1 su Inghilterra Irlanda più over a tutte e due lasciando la doppia più over sulle altre due partite in questo modo alzerebbe ancora di più la quota e avrebbe magari meno rischi tra virgolette in ogni caso siccome veniva fuori con queste quattro doppie più over con 5 euro 28,52 io la lascio così poi voi scegliete il da farsi vi ho dato un po' di opzioni veniamo alla quarta bollettina Moldova Russia gol casa Bosnia Iran gol ospite Galli Stati Uniti gol ospite Inghilterra Irlanda gol ospite con 5 euro ne vengono fuori 35,72 direi che fa libidine naturalmente quelle più a rischio sono sicuramente quella a rischio è Moldova Russia perché non so se la Moldova riuscirà a fare un gollettino alla Russia ricordiamoci che se non erro l'Italia ci vinse 6 o 7 a 0 con la Moldavia se non sbaglio non so se era l'amichevole si doveva essere l'amichevole se non sbaglio era la Moldovia che vincemmo proprio di goleada facemmo un massacro quindi non lo so se conviene magari un no gol casa con Moldovia Russia e gli altri lasciare gol ospite eccetera perché penso che sia l'Iran che gli Stati Uniti un gol al Galles e alla Bosnia lo possano anche fare e lo stesso discorso vale per Inghilterra e Irlanda perché il resto dell'idea è che l'Irlanda sicuramente becca salvo che il pallone rotondo e succede un patatrac però magari il gollettino all'Inghilterra glielo vuole fare lo stesso e quindi attenzione detto questo andiamo alla quinta e sesta bollettino un attimino più folli quindi Moldova Russia gol più over Bosnia Iran gol più over Galles Stati Uniti gol più over Inghilterra Irlanda gol più over con 5 euro se ne vincono 223,03 vi informo che Moldovia Russia il gol più over non è favorito ma c'è una differenza intorno allo 0,50 quindi non è una differenza enorme stesso discorso per Bosnia Iran il gol più over non è favorito ma c'è una differenza di 0,50 a favore del no gol più under Galles Stati Uniti stranamente è quella che il no gol più under è quello più favorito rispetto agli altri due perché siamo quasi all'uno 0,80 più o meno infine Inghilterra e Irlanda incredibile ma vero il gol più over e il no gol più under sono perfettamente alla pari se non erro a 2,45 quindi lì tirate la moneta e scegliete cosa fare poi naturalmente queste due bollette che vi faccio questa e quella successiva sono quelle per chi ama il rischio e vuole magari vincere qualcosina di più però ripeto queste sono bollette che io vi dico sempre giocatevi 2 euro non giocate ne 5 perché è vero se arriva ne prendi tante ma siccome mi capita una volta ogni tanto è successo col campionato inglese di averle prese tutte 6 ma è successo una volta tendenzialmente le prime 4 bollette le prendo con una media superiore al 50% sto basso stando bassi queste due qua siamo al 5, 10, 15, 20% di probabilità con una probabilità superiore sicuramente al gol più over e un po' più bassa sul 2 gol sulla fissa più gol proprio perché essendoci la fissa più il gol implica sia il risultato che appunto il gol e quindi c'è una doppia difficoltà mentre il gol più over una prende l'altra perché se c'è il gol è facile che ci sia anche l'over l'altra invece hai bisogno che arrivi il pronostico e arrivi anche il gol comunque ultima bollettina Moldovia-Russia 2 più gol Bosnia-Iran 1 più gol Galles-Usa 1 più gol Inghilterra-Irlanda 1 più gol con 2 euro se ne vincono 580,38 con 5 euro 1450,94 siccome tutte e quattro le partite l'uno più gol, due più gol non sono favoriti vi ho fatto anche la bolletta col no gol Moldova-Russia 2 più no gol Bosnia-Iran 1 più no gol Galles-Usa 1 più no gol Inghilterra-Irlanda 1 più no gol Con 2 euro se ne vincono 96,79 quindi quota popolare quindi una possibilità sicuramente superiore c'è che possa uscire e con 5 euro se ne vincono 241,97 Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo poi con i prossimi video ve l'ho detto, mercoledì farò sicuramente quello che riguarda gli spareggi di giovedì per le qualificazioni al campionato europeo che così ce li avete mercoledì avete tutto il tempo di giocarvi anche quelle tanto si giocano giovedì nel tardo pomeriggio alla sera e quindi problemi non ce ne sono Ciao